Ultimo weekend per le vie dei tesori a Caltanissetta, il 24 e 25 settembre infatti saranno le giornate conclusive della manifestazione svoltasi nella cittadina nissena grazie al supporto del comune ad un gruppo di cittadini composto da Lice Bifarella, Luigi Garbato, Michele Mendoli e Calella, Aurelia Speziale e Pasquale Tornatore e al coinvolgimento di associazioni, enti, istituzioni ma anche privati. Secondo il programma saranno ancora visitabili il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.10, l'archivio del liceo classico e la biblioteca comunale, la casa del mutilato dalle 10 alle 12.40 e dalle 15 alle 17.40, la casina dei gesuiti sabato dalle 16.30 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.00, la chiesa Santa Maria delle Grazie, istituto Maddalena Calafato, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, la cripta della cattedrale dalle 10 alle 12.40 e dalle 17 alle 19.40, il Museo Averna dalle 10 alle 12.40 e dalle 14.30 alle 16.30, ancora il sabato dalle 10 alle 12.00 il Palazzo del Seminario Vescovile e il Museo Diocesano, sosta visiva dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 il sabato, la domenica invece dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Spazio Pitta dalle 11 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 e infine la Villa Benintende a Saristi dalle ore 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.00. In totale erano 15 siti di inseni visitabili nei tre weekend e tra questi due erano di San Cataldo. Questo fine settimana ci sarà anche l'ultima esperienza con una visita all'ex miniera di Zolfo di Gabara e la passeggiata nel centro storico tra Pietre d'Inciampo, Chiesa della Providenza, Morales e Opere d'Arte nei Vicoli.